Sì, noi non ci siamo mai sentite arrivate, abbiamo cercato di dare il massimo partita dopo partita, già da ieri abbiamo giocato meglio e si è visto, già dal primo tempo abbiamo imposto il nostro gioco e siamo state davvero brave a giocare con determinazione e di squadra, quindi adesso cancelliamo già la partita perché ovviamente non abbiamo ancora concluso niente, è già testa domani, però intanto siamo molto contenti. Oggi non è andata come volevamo, la testa adesso è domani, che abbiamo ancora una possibilità per arrivare alle semifinali, dobbiamo crederci e lottare fino alla fine, oggi purtroppo abbiamo mollato da subito, quindi proveremo domani.